Si vivono attimi di paura, mentre le ambulanze a sirene spiegate trasportano i feriti all'ospedale. A scatenare la reazione dei cagliaritani è una provocazione che nella allucinante ideologia degli ultrà equivale alla peggiore delle offese, il furto di uno striscione da parte dei milanisti. Lo striscione è mio! No, cazzo lo striscione! Chi è quella? Via! La rabbia disperata del tifoso cagliaritano aumenta quando i milanisti ormai imbarcati decidono di esporre lo striscione rubato. Alla fine si contano sei feriti, due ultra arrestati e cinque denunciati a piede libero, tra cui due minorenni. Un bilancio pesante che poteva essere anche più grave senza il massiccio intervento di polizia e carabinieri. Anche Cagliari, città normalmente tranquilla, ha così conosciuto la sua domenica di ordinaria follia.